gentili tre spettatori buona giornata di matteo renzi possiamo dire che uno che sa il fatto suo è uno che sa anche come fare i soldi voi sapete che matteo renzi dichiara più di un milione di euro di fatturato annuo e non è politica è tutto quello che lui riesce a fare facendo conferenze facendo questo e quell'altra cosa quindi è una persona è una persona capace è una persona che fa e sa anche fare i soldi con i processi ed è proprio quello che ha detto nel corso della trasmissione di piazza pulita che attacca marco travaglio dice con i soldi delle cause civili mi pago almeno tre o quattro rate del mutuo dice matteo renzi ed è sicuro che ci riuscirà dice mi accusa di essere un disonesto marco travaglio bene ne risponderà in tribunale arriverò fino al terzo grado di giudizio e con quei soldi mi ci pago una parte del mutuo ma lui matteo renzi querela tutti quelli che dicono mezza parola su di lui li querela e probabilmente l'avvocato lo consiglierà gli dirà guarda questa causa la puoi fare questa ti va bene questa magari ti va male quindi lui dove vede che può comunque spuntarla in tribunale e sono soldi perché quando la spunti quello che perde deve pagare 8.000 15.000 sono soldi e lui ci paga le rate del mutuo è stato assolutamente chiarissimo e onesto dirlo io mi ci pago con tutte le cause mi ci pago mi ci pago il mutuo denunciato la giornalista del corriere della sera fiorenza sarzanini non so esattamente che cosa abbia scritto su di lui e poi è passato al nome di travaglio con il quale ha uno scontro aperto da tempo dice chi pensa di me che sono un disonesto lo porto in tribunale fino al terzo grado di giudizio e non e con i soldi delle cause civili con travaglio mi pago almeno tre o quattro rate del mutuo della casa la chiamerò villa travaglio detto renzi riferendosi proprio alle denunce sporte verso travaglio che il direttore del fatto quotidiano apertamente schiarato con il movimento 5 stelle risponde a renzi antonio padellaro direttore del giornale amministrato dallo stesso travaglio il fatto quotidiano e dice l'ho trovato molto simpatico e garbato come al solito ha tirato in ballo il nostro giornale molto bene gli vorrei annunciare con il denaro delle sue querelle temerarie istituiremo il premio renzi per i giornalisti più meritevoli ma a parte questa risposta goliardica matteo renzi con le denunce ci fa i soldi lui va a colpo sicuro infatti aveva parlato proprio di travaglio di un altro giornalista che mi sembra si chiami riva e quando è uscita la notizia che il tribunale e i giudici di firenze stavano indagando sulla ex fondazione sua open stavano cercando di capire i soldi in prestito come li aveva ricevuti renzi o perlomeno se quei soldi in prestito sarebbero stati elargiti in cambio di qualche favore travaglio e quest'altro giornalista arriva non so se della repubblica di quale giornale non mi ricordo esattamente non sono sicuro avevano detto con i soldi della fondazione si è comprato casa quando l'ha sentito renzi ha detto su questi vado a colpo sicuro la vincita in tribunale è sicura e per lui vincita si tramuta in soldi probabilmente lui avrà parlato con il legale dice guarda hanno detto questo secondo te e l'avvocato gli avrà detto vai tranquillo qui vinci sicuramente quindi lui subito è andato a sporgere denunce chissà quante renzi ne ha aperte di denunce quanti soldi sta facendo con vincendo le cause perché lui già ha parlato con questa lui già ipotizza ogni causa quanti soldi gli può portare tenendo conto anche che deve pagare l'avvocato quindi attenzione non è solo che vinci 8 15 mila euro magari c'è un accordo con l'avvocato dire guarda io ti do magari una percentuale se recupero 15 mila euro ti do non lo so il 30 per cento ti do sono 4500 euro su 15 mila perché non è che puoi pagare l'avvocato 30 mila euro e prenderne 15 mila se no non ti serve neanche fare le cause e viene in mente proprio quella causa recente recente la causa della franzoni che aveva l'avvocato franzone lo ricordate no che aveva l'avvocato taormina che gli ha chiesto 287 mila euro di compensi no e l'avvocato taormina gli vuole confiscare far confiscare la casa per pagare la parcella quindi attenzione che gli avvocati sono costosissime se le cause vanno avanti tempo vi chiedono vi spellano vivi quindi secondo me non dovrebbe essere neanche permesso agli avvocati di poter chiedere così tanto per un processo che senso ha 287 mila euro per un processo di cui taormina neanche beneficiato come immagine perché si è fatto una pubblicità strepitosa quindi secondo me deve esserci un limite anche a quello che chiedono gli avvocati perché non ha senso io vi dico questo quando ho avuto bisogno degli avvocati ho sempre detto io soldi non ne ho che facciamo lei prende una percentuale di quello che io riesco a prendere se mi dicono sì va bene se mi dicono ma lasci perdere niente ne cerco un altro e sempre trovo comunque una persona che accetta di prendere una percentuale su quanto si riesce a recuperare ma quella di renzi è stata una settimana infuocata perché il senatore fiorentino da mandato ai legali di agire in giudizio contro giornali e giornalisti che si sono cimentati ad approfondire l'inchiesta sulla fondazione open in merito alla sarzanini renzi ha spiegato su twitter il motivo della sua azione il corriere scrive che io avrei ricevuto incassi dalla fondazione mescolando interessi personali e si domanda cosa ci fosse davvero dietro il regalo fatto a renzi ovviamente tutto falso agisco in sede civile colpo su colpo lui mette l'hashtag colpo sicuro colpo su colpo nel senso che lui con i legali sa già dove andare a prendere soldi vi ricordo che in una diretta facebook sapete che nelle dirette facebook le persone possono commentare in contemporanea e lui aveva letto un commento che non gli era piaciuto perché voi sapete che leoni del tastiera sono veramente degli insultatori nascosti e lui aveva subito detto bene tu che ti chiami che hai scritto questa è appena scritto questa cosa trovati un avvocato perché ti denuncio domani mattina quindi diciamo che c'è una fabbrica renzi di di soldi fatti con le denunce dove lui vince a colpo sicuro sui diffamatori che sicuramente ne troverà ogni giorno ma proprio di renzi dice nessuna polemica coi magistrati che stanno facendo le indagini però chi mente sarà chiamato a risarcire conto di fare parecchi soldini no poi in seguito renzi ha fatto scattare tre denunce penali la prima delle quali l'indirizzo di travaglio per aver detto che il governo renzi ha beneficiato il gruppo toto nel 2017 e lui dice non so cosa parli travaglio ma so che il mio governo è finito nel 2016 quindi notizia falsa e diffamatoria reato certo le altre due denunce riguardano invece la rilevazione di segreto bancario o istruttorio alla luce degli articoli della verità e dell'espresso per quanto riguarda travaglio renzi ha così sottolineato il motivo della denuncia ho avviato azioni civili per un risarcimento danni per il video con la carta igienica voi sapete che c'è un video dove travaglio dietro a un rotto qua si vede qui da questa parte un rotolo di carta igienica con la faccia di renzi no è fantastico no il titolo della sua legge ad cognatum gli editoriali contro italia viva sulle mie attività in barba alla trasparenza sulla mia frequentazione alla niene per soldi e consulenze sull'equiparazione con la p2 anche quelli odierni sull'acquisto della mia casa e sui soldi di open per comprare tessere e voti le richieste di matteo renzi ammontano a un milione di euro di danni a travaglio io ho sentito che un altro giornalista aveva chiesto 100 mila euro forse quel gigi riva che non è il ciclista non è un calciatore ma è è proprio un giornalista nessuno ricordo di quale giornale ma a travaglio sta chiedendo un milione di euro e probabilmente ci potrebbe anche potrebbe anche riuscirci su questo tema immaginate quanti soldi potrebbe fare matteo salvini solo denunciando tutti quelli che lo insultano ogni giorno a paroloni parolacce un consiglio a matteo salvini instaura un pool di avvocati gli paghi una percentuale su quello che riesci a recuperare puoi fare io dico centinaia di cause centinaia di cause ma so saputo poi la notizia di oggi che matteo salvini ha denunciato carola racchette che a sua volta ha denunciato lui prima e lui sta rispondendo anche anche matteo salvini sta cominciando a denunciare i diffamatori e gli odiatori ma fa assolutamente bene grazie per avermi ascoltato vi invito a iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita nella community potrete partecipare a tanti sondaggi e commentarli siamo anche su facebook tele italia notizie dove trovate tanti video che sono gli stessi che ci sono su youtube e li potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate grazie per avermi ascoltato e buona giornata arrivederci